Sono state definite due leggende del panorama musicale italiano ed internazionale Uto Ugi e Bruno Canino, due grandi, per la prima volta insieme ad Ariano Irpino nel Museo della Ceramica di Palazzo Forte, in un concerto di quelli davvero da incorniciare grazie all'intuita e alla benegazione dell'idiatore di classi cariano Emerico Maria Mazza la cui regia è risultata importante e preziosa anche a distanza. Io ho sempre sostenuto la causa della musica nei posti piccoli perché nei posti piccoli c'è una maggiore attenzione, c'è meno distrazione che nelle grandi città nei posti piccoli un concerto o un avvenimento culturale può essere un evento che invece nelle grandi città si disperdono come in un fiume. Sono un professionista, mi invitano, faccio il mio mestiere e qui vengo con particolare piacere, devo dire. Sono campano, sono napoletano, quindi fa molto piacere essere in questi bei posti così civili. Abbiamo assoluto bisogno del pubblico, senza pubblico, per esempio in questo difficile periodo che sono fatti concerti, streaming, non era una cosa molto allegra, c'è bisogno del pubblico in carne e onza.